Mi dispiace averti uccisa ma è successo, ho un temperamento che spesso mi porta all'eccesso, ho telefonato a Rosa e l'ho avvertita, mi ha detto che posso capire mia figlia è davvero viziata, hai fatto bene così? L'altro giorno mi guardavi con sospetto, non mi fai nervosire, te l'avevo detto, il mio bacio è come un blues che ti fulmina, come sei entrata nella mia vita, ne sei riuscita, siamo a posto così. Siamo a posto così. Grazie a tutti.